cosa succede a tutti frank valquirio benvenuti al canale oggi stiamo facendo una reazione la prima volta questa volta è la prima volta come la ultima volta che sto cercando di dire l'immaginario battaglia perché non ti chiamate quando sei necessario e mi parla di cringere non fa qualcosa di valore comunque ragazzi oggi ivette sangallo quando asciuga a passare quando asciuga a passare quasi 31 milioni di guardie sono curioso andiamo e anche prima di andare per favore considerate abbiornare è gratuito questo suono come il peggio possibile possibile nella storia di abbiorni e cosa c'è con il tunderstorm novembre il regno quasi con il piano comunque bene una bellissima creatura emergente dalla scuola con i occhi di piazza e un ragazzo che sta giocando il piano perché sempre bisogna un ragazzo con le sceglie per giocare il piano altrimenti cosa stai giocando bene i piedi non mi piacere, più mi piacere Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.